Ospiti, premiazioni, intrattenimento. Questo e tanto altro ancora è l'evento Telemolise nel cuore che è stato ideato dal direttore della testata giornalistica sportiva della nostra emittente Antonio Di Lallo e che lui stesso insieme a Erika Mastropietro e Annalisa Ciarlante condurrà domani sera a partire dall'evento al Coriolis di Ripalimosani, evento che i telespettatori da casa potranno seguire in diretta su Telemolise 1 e 2 canali 11 e 12 e su Telemolise Sport canale 112. È un'idea che abbiamo ripreso dagli Oscar quando facevamo gli Oscar dall'88 al 94 poi li avevamo sospesi. L'anno scorso in occasione della puntata 1000 abbiamo pensato insieme all'editore Quintino Pallante che era bello riproporre una trasmissione in diretta con premiazioni e spettacolo. In questo caso devo dire che è ancora più bello perché tutti sono molisani dagli artisti che parteciperanno alla serata alle società, ai dirigenti che saranno premiati, gli sponsor. C'è un momento particolare dedicato alla memoria con tre dediche a persone che sono scomparse nel 2015 e poi c'è un momento dedicato al sociale quindi non solo sportivi ma saranno premiate delle persone che sono conosciute un po' in tutta Italia e addirittura in un paio di casi in tutto il mondo, molisani, sempre molisani che hanno fatto strada e che hanno raccolto consensi in tutte le parti del mondo. E in un periodo di crisi con questo evento Telemolise vuole lanciare ai telespettatori un messaggio positivo. Certo è proprio questo il discorso che facevamo insieme a Quintino Pallante in un momento in cui si parla a tutto tondo di crisi non solo economica ma anche sociale. Telemolise è un punto fermo nel panorama dell'emittenza privata non solo molisana ma direi nazionale perché per la dimensione che ha assunto si colloca in una posizione medio alta nel campo dell'emittenza privata nazionale e quindi da Telemolise parte un messaggio di fiducia anche perché noi francamente non abbiamo avuto problemi con gli sponsor che ci sono stati sempre vicini anche nei momenti di crisi e quindi un messaggio di fiducia ai telespettatori, agli sponsor, alla società molisana che Telemolise c'è continua ad operare, continua a lavorare, continua a proporsi con tantissimo successo e questo significa che quando le cose si fanno bene si può operare bene anche in momenti difficili per l'economia italiana. Quindi è un messaggio di fiducia e anche un messaggio francamente di vicinanza a tutti i nostri telespettatori è il Gran Gala di Domenica Sport che è una trasmissione che notoriamente raggiunge picchi di ascolto altissime proprio anche all'interno della stessa Telemolise e quindi è un messaggio di ringraziamento anche per tutti i nostri sponsor un appuntamento che noi riteniamo non debba fermarsi qui ma debba cominciare a ridiventare un appuntamento annuale così come erano gli Oscar.